L'Avezzano a caccia di conferme dopo il pareggio di sette giorni fa contro il Campobasso, ospita una Sangiustese, reduce da quattro sconfitte consecutive e che non vince dallo scorso 27 ottobre. Marchigiani guidati in panchina dall'ex Forlì Nicola Campedelli, che in settimana ha preso il posto dell'esonerato Senigayesi. Mecomonaco oggi squalificato ripropone di Curzio al centro dell'attacco, supportato da Quatrana e Agate, a centrocampo spazio a Crass, per lo squalificato traditi nella Sangiustese subito in campo, l'ultimo arrivato dell'Aquila nel 4-4-2 in cui Buonaventura e Mingiano fungono da riferimenti offensivi. Fase di studio in avvio e per attendere la prima occasione da gol si deve arrivare fino al quarto d'ora quando Crass arma il sinistro ma non inquadra e spedisce lontano dallo specchio. Al ventesimo è il turno di Agate che tenta il colpo a giro, sfera che non impensierisce Chiodini. Al ventiquattresimo la Sangiustese passa al primo a fondo, Camerlengo perde il pallone in uscita per Buonaventura, è un gioco da ragazzi, insaccare l'1-0, primo gol in maglia rosso-blu per l'ex Foligno, terzo errore decisivo in altrettante uscite per il portiere ex Chieti. L'Avezzano prova a reagire con Magri che impatta di testa e spedisce al lato di un soffio, più pericolosa l'incornata di Quatrana che centra in pieno la traversa sulla ribattuta. Agate non ha il tempo di coordinarsi e blocca facile Chiodini. Nel finale di tempo l'arbitro Gemelli di Messina ammonisce Masini dalla panchina per proteste, giallo ingenuo che peserà e non poco sulle sorti dell'incontro. In avvio di ripresa Mecomana cogetta nella mischia l'argentino per un impalpabile di Curzio e al tredicesimo è ancora pericoloso Magri che stacca più in alto di tutti e centra il palo a Chiodini battuto. Nemmeno il tempo di rammaricarsi per il secondo legno di giornata che Buonaventura scappa via di Gian Felice, decisivo l'intervento di Camerlengo. Al ventesimo arriva l'altro episodio chiave del match, Masini rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in dieci irremovibile il direttore di gara che manda l'argentino anzitempo negli spogliatoi. Tre giri di lancetta e la San Giustese sfiora il colpo del K.O., ma il tentativo di Buonaventura trova solo l'esterno della rete. Mecomana coincerisce anche Cancelli per Pugliegli e Direnzo per Morales, mentre Campedelli risponde con Palladini per Dell'Aquila. Mellavezzano ad avere la palla del pareggio con la rasoiata di Kras che sfiora soltanto il palo alla sinistra di Chiodini. Al trentatresimo altra chance dei marchigiani con il piazzato di Bambozzi che mette brividi a Camerlengo. L'ultimo tentativo dell'Avezzano porta la firma di Quatrana che si libereva al tiro, conclusione facile tra le braccia di Chiodini. Finisce con la quarta sconfitta nelle ultime otto partite per i biancoverdi che non vincono ormai da due mesi. Tre punti fondamentali per la San Giustese che vola a quota 20 e torna a gioire dopo un digiuno durato nove giornate. Per l'Avezzano critiche dagli spalti e tempo di riflessioni. Allora mister, soltanto da poche ore sulla panchina della San Giustese è arrivata questa vittoria importante che mancava da tante partite, una vittoria fondamentale per la lotta alla salvezza. Sì, sicuramente una vittoria molto importante, non solo per i punti che comunque sono ovviamente l'obiettivo ma anche per il morale perché ovviamente si veniva da un periodo complicato e quindi i ragazzi li conosco da pochissimo perché sono tre giorni che sono con loro però hanno dimostrato fin dal primo giorno di tenerci, di aver voglia di ribaltare questa situazione. Oggi sapevamo che era una partita di sofferenza perché giocavamo contro una squadra che aveva le nostre uguali priorità come noi e siamo riusciti noi a emergere e questo per noi è importante. Mister, una sconfitta è arrivata con un infortunio del vostro portiere e poi quando la partita, quando sembrate comunque più vivi è arrivata questa espulsione che vi ha un po' tagliato le gambe? Guarda, io mi trovo a commentare una partita che è un po' strana perché la partita la stavamo facendo e anche bene, poi è normale che quando subisci questi infortuni ti stroncano un po' le gambe poi abbiamo fatto il possibile, abbiamo cambiato qualcosa, secondo me stavamo in partita, la squadra era viva, però poi è difficile sempre rincorrere un risultato, non è facile, poi mettiamo che giochiamo anche con un clima ostile, io i tifosi li capisco che ci contestano perché sicuramente loro meritano molto di più, ma purtroppo io non ho la bacchetta magica, non è che poi in mezzo al campo ci va l'allenatore, io mi prendo la responsabilità, io durante la settimana cerco di fare il possibile per mettere una squadra in campo che possa lottare e penso che questa squadra l'abbia fatto fino all'ultimo secondo perché anche con un uomo in meno siamo stati sempre pericolosi, poi è normale, è difficile creare occasioni quando una squadra si mette tutte undici dietro la linea della palla, non era facile, quindi io sotto l'aspetto dell'impegno ai ragazzi non posso rimproverare nulla, se poi si commettono questi errori è normale che tutto diventa difficile.